Il monastero di Monte Cassino fondato da San Benedetto verso l'anno 529 dell'era cristiana sorse sulla base di una preesistente fortificazione romana del municipium di Casinum, San Benedetto e monaci che lo seguivano giunse in questo luogo proveniente da Subieaco dove era entrato in conflitto con altri monaci. Su questo monte si esercitava ancora il culto pagano con un tempio dedicato ad Apollo e un boschetto sacro con annessa area per i sacrifici. Reso illustre dalla prodigiosa vita e dal sepolcro del suo fondatore, Monte Cassino lungo i secoli ha vissuto una feconda storia di santità, di cultura, di arte per cui è celebre nel mondo intero. Distrutto verso l'anno 577 dai longobardi del duca Beneventano Zotone, il monastero rinasce agli inizi del secolo VIII per opera del Bresciano Petronace su mandato di Papa Gregorio II. Si inizia per l'abbazia cassinese un periodo di grande splendore, vi accorrono il monaco Sassone Villibaldo, il monaco Sturmio di Scepolo di San Bonifacio, fondatore di Fulda e del monachesimo tedesco, il duca Gisulfo di Benevento, Carlo Manno fratello di Pipino, racis re dei longobardi, Anselmo futuro abate di Nonantola, nel 787 vi giunge Carlo Magno, che rilascia ampi privilegi. Nell'883 i saraceni invadono il monastero, lo satteggiano e lo danno alle fiamme vi trova la morte il santo abate Bertario, fondatore della Cassino Medioevale, i monaci superstiti riparano prima Ateano poi a Cappua, e solo verso in metà del secolo X la vita monastica riprenderà in pieno grazie all'abate Aligerno. Durante il secolo XI si succedono grandi abati, Teobaldo, Richerio, Federico di Lorena, che sarà poi Papa con il nome di Stefano IX, e si elevano Monte Cassino a livelli di grande prestigio in campo ecclesiastico e politico, con un apice che verrà raggiunto con l'eccezionale personalità dell'abate Desiderio amico e collaboratore di Papa Gregorio VII nella lotta per la libertà della Chiesa. Desiderio abate e cardinale ne diverrà il successore con il nome di Vittore III, durante il suo abbaziato viene ricostruita splendidamente la basilica e il monastero si arricchisce di codici miniati, mosaici, smalti, oreficeria liturgica di fattura orientale. Nel 1349 avviene la terza distruzione a causa di un terremoto, dello stupendo edificio fatto erigere dall'abate Desiderio non restano che poche mura. Nella ricostruzione successiva varie sono le aggiunte e gli abbellimenti, che danno al monastero la grandezza e la monumentalità pervenuta a noi fino al 15 febbraio 1944, quando, nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale, Monte Cassino venne a trovarsi sulla linea di scontro degli eserciti, luogo di preghiera e di studio, divenuto in circostanze così eccezionali anche asilo pacifico di centinaia di inermi civili, fu, nello spazio di tre ore, ridotto a un cumulo di macerie, sotto le quali trovarono la morte molti dei rifugiati quanto oggi si vede è stato riedificato sull'antico modulo architettonico, secondo il programma del benemerito abbate ricostruttore Il Defonso Rea, dove era, come era. Le varie opere di ricostruzione e di decorazione hanno avuto la durata di un decennio e sono state esclusivamente finanziate dallo Stato italiano. Dopo tante vicende Monte Cassino può veramente raffigurarsi con l'immagine simbolica di una secolare queercia, che benché schiantata dalla bufera, rinasce sempre con intatto vigore, su Cisa Vireshit. Testo e foto sono tratti da, I luoghi del silenzio.